Eccoci di nuovo in diretta dopo questa bellissima finestra sul Provelia passiamo ai gironi di terza categoria con risultati e classifiche. Girone C, Stella Cioff, Real Laura 0-1, Castel Civita, Real Sant'Anna 1-3, Club Battipaglia, Altavilla, Serentina 2-1, Condursi Termi, Sicignano 2-6, Tempalte, Polisportiva, Sant'Antonio 2-0, Real Poseidon, Real Sant'Anna 2-4. Classifica. Tempalta, Battipaglia, Sicignano e Real Laura 12, Castel Civita 9, Real Sant'Anna, Real Sant'Anna Sicilia e Stella Cioff, 7 punti, Polisportiva, Sant'Antonio 4, Altavilla, Serentina 3, Chiude, Real Poseidon e Real Condursi Termi, 0 punti. Passiamo al girone successivo, girone D. Atleti di Bacco, Black Lyons 0-5, Buccinese Oliveto Citra 3-1, Real Oliveto Citra Magorno 2-2, Arci Postiglione, Real San Giorgio 3-3, Colliano Futura, Real Pertosa 2-1, Monde Bruno Roscigno, Monde San Giacomo 0-0. Ha riposato il Real Bianca. Classifica, il Colliano 13 punti, Real San Gregorio 11, Black 9, Postiglione Oliveto Citra e Buccinese insieme al Roscigno 8 punti, Real Oliveto Citra 5, Monde San Giacomo 4, Atleti di Bacco 3, Real Bianca 2, Magorno 1, Real Pertosa 0 punti. Prossimo turno, Black, Real Oliveto Citra, Magorno Buccinese, Oliveto Citra, Arci Postiglione, Real Bianca, Colliano, Real Pertosa, Atleti di Bacco, Real San Gregorio, Monde Bruno Roscigno, Riposa, il Monde San Giacomo. Il girone è Dinamo per difumo, Leastromo 2-0, Alstar Pollica 4-1, Cilento Calcio Prignano 3-3, Monte Corice e Pattano 10-1, Sessa Montestella, Stio Cilento 1-3, Vatolla Virtus Eredita 5-0. Classifica Monte Corice 13-1, Alstar 12-1, Vatolla Virtus Eredita 10-1, Prignano 9-1, Stio Cilento 8-1, Dinamo per difumo 7-1, Cilento Calcio, Sessa Montestella 6-1, Pollica 2-1, Oleastromo 0-0, Pattano 0-1. Il prossimo turno Oleastromo 0-1, Pattano Cilento, Pollica, Monte Corice, Prignano, Vatolla, Stio, Dinamo per difumo, Virtus Eredita, Sessa Montestella. Il Girone F A Bonabitacolo, Bonabitacolo Caprioli 3-5, A Scea Marina, Magna Cavallo City, Cella 1-5, Scario Rodio 6-1, A Pisciotta Polisportiva Marina, Pisciotta 6-2, Folgra Acquavella Ceraso 6-2, Lendiscosa B, Civisport 0-0, ha riposato il Camerota. La classifica, qui c'è stato il sorpasso del Caprioli con la vittoria esterna ai danni del Bonabitacolo, quindi Caprioli 1-12 punti, Celle, Bonabitacolo, Scario 10, Civisport 0-7, Camerota, Acquavella 6, Polisportiva Marina 4, Ceraso 4, Atletico Pisciotta, Magna Cavallo City 3, Rodio 2. Prossimo turno, Camerota, Atletico Pisciotta, Caprioli, Acquavella, Cella, Scario, Ceraso, Lendiscosa, Civisport e Magna Cavallo, Polisportiva Marina, Bonabitacolo, Riposi e Rodio. Qui Giuseppe possiamo spendere qualche parola perché pensavamo che questo Bonabitacolo non avesse difficoltà, invece il Caprioli ha fatto una grande vittoria esterna. Sì, non mi hanno venuto amici di Bonabitacolo, però i ragazzi ospiti della scorsa settimana del Ceraso avevano ragione perché loro dicevano noi non abbiamo nulla da invidiare al Bonabitacolo e purtroppo è quello che si è dimostrato nella partita contro il Caprioli, vinto appunto 5-3 dal Caprioli. Per quanto riguarda questo girone, Sergio, tante squadre si sono rinforzate, abbiamo visto questo balzo del Caprioli, Caprioli che secondo me è quella più accreditata dopo la campagna acquisti. Sembra una mini seconda come girone. Sì, una mini seconda perché ci sono tanti giocatori di prima categoria, giocatori che hanno fatto addirittura anche la promozione che stanno giocando e sicuramente questo girone rispetto al girone E, che è l'altro girone che ci riguarda più da vicino dove c'è anche la squadra B di Pattano, è quello un po' più, diciamo, quello più forte come girone, quello più difficile per quanto riguarda le squadre minori. Tant'è vero che il Folgo di Acquavella, che a mio avviso è una squadra fatta di buonissimi giocatori, sta avendo difficoltà anche se ha dimostrato di vincere 6-2 contro il Ceraso, anche questo era un derby tra Folgo di Acquavella e Ceraso, una squadra un po' più vicina in questo girone. Per quanto riguarda appunto sempre questo girone, come hai detto tu, abbiamo visto i tanti acquisti fatti appunto dal Caprioli che gli hanno permesso di fare questo balzo in avanti e anche da segnalare appunto il Polisportiva Marina che con l'acquisto del Duca arrivato appunto dal Foria Futani di seconda categoria ha segnato e ha vinto per 6-2, gol di Del Duca in rovesciata. Sì, credo che sia un girone apertissimo perché anche Scario vedo che insomma ha cominciato a macinare risultati. Sì, un giro molto aperto e sicuramente anche il Celle che ha fatto dei buoni acquisti è una squadra che può dire la sua, quindi c'è tutto da vedere, sicuramente però quella che vede attrezzata meglio di tutti è il Caprioli. Beh sicuramente abbiamo detto già prima, ultimamente ha aggiunto oltre all'amico Carmen Elia ha aggiunto Scarpa e forse si dice anche di qualche altro acquisto importante, quindi voglio dire è bello vedere in terza categoria una società che si impegna tanto per cercare ecco di portare, di porsi un obiettivo, insomma è da apprezzare ovviamente. Ovviamente io dico sempre che dipende sempre di obiettivi che le squadre si pongono perché se il Caprioli si pone l'obiettivo di vincere il Campeonato, credo che faccia bene a fare questi acquisti per poter vincere. Se invece l'obiettivo è diverso, diciamo non è bello poi vedere i ragazzi del paese insomma stare ai margini e poi far giocare insomma altri elementi sicuramente superiore. Questo a volte... Ci vuole il giusto mix, tra i giovani del posto e magari qualche giocatore un po' più esperto che possa colmare le lacune, ecco, che non si riescono a trovare nei paesini. Io rimango sempre nell'idea che se, l'ho detto già prima, se l'obiettivo è vincere un Campeonato, allora insomma ci vogliono gli uomini per poter vincere il Campeonato. Poi se non è vincere il Campeonato ma valorizzare, fare la squadra del posto, allora vado a cercare quella persona che mi manca in Guerrula che non ce l'ho. Per farci un esempio, se non ho il portiere me lo cerco, se non ho l'attaccante me lo cerco, però do spazio ambio ai ragazzi del proprio paese. Però in questo caso credo che l'obiettivo della società e anche di mister Percopo perché lui è un mio cugino, credo che l'obiettivo sia quello di vincere il Campeonato. Quindi insomma si sono proiettati. Per quanto riguarda, prima parlavamo pure del Pattano, quindi il Pattano B, quindi abbiamo qui gli ospiti del Pattano. Io sono contento di quelle società che riescono addirittura a fare, ad iscriversi a due cambiate differenti perché danno comunque modo a quei giocatori che magari non hanno spazio in una prima o in una seconda categoria comunque di giocare in un campeonato di terza. Quindi penso sia quello un po' lo spirito con il quale è nata questa terza categoria. Per cui è stata iscritta anche una squadra in terza, per dare spazio ai giovani che non avevano la possibilità magari di allenarsi con noi. Ma che comunque hanno voglia di giocare, quindi hanno spazio. Ma che comunque si vogliono divertire la domenica, il calcio alla fine comunque è divertimento e quindi hanno fatto bene ad iscriversi a questo campionato. Bene, con queste ultime notizie di calcio io ringrazio gli ospiti presenti, l'amico Giuseppe, ormai ospite fisso da Il Bello del Calcio. Grazie, buonasera. E ringrazio il mister del Pattano, l'amico Antone Adriano. Grazie a voi dell'invito. E il suo capitano, Laurito Vincenzo. Grazie a voi. E un in bocca al lupo per il camionato. Crevi, grazie. Grazie a tutti e noi ci vediamo venerdì prossimo. Buonasera a tutti. Questa trasmissione è offerta da Unipol Sai Assicurazioni del Greco Group Con sedi a Camerota, a Palinuro e a Sapri Arco Naturale Club Matrimoni e cerimonie Il tuo sì a Capo Palinuro Arconaturaleclub.it Colora i tuoi ricordi con PhotoWorld In via indipendenza a Palinuro PhotoWorld.it DecaGel Produzioni gelati e surgelati Sedi a Sansa e a Sapri AS Service Auto plurimarche Nuovo, usato, noleggio, assistenze e ricambi A Capaccio Statale 18, km 87-200 Vittoria Assicurazioni Agenzia Generale di Casalvelino Con filiale ad Agropoli Agente Giuseppe Severino Coffi Service R&L Il caffè del bar a casa tua Come lo vuoi tu CoffiServiceRL.it Grazie a tutti